A 30 metri dalla finestra di casa nostra c'era una pecora che sembrava esplosa da quanto l'avevano dilaniata. Guardando bene in giro poi abbiamo trovato un'altra pecora che era stata sgozzata però non mangiata e il maschio che me l'avevano sventrato giù nel campo di sotto però non l'avevano mangiato neanche lui. Tre pecore uccise dai lupi a Rigutino a circa 800 metri dalla statale attorno alla campagna ma dove ci sono numerose abitazioni. Alberto, Carolina e Margherita, così si chiamavano i tre esemplari, si trovavano a pochi metri da una casa. Queste pecore le tenevamo lì perché ci tenessero pulito l'appezzamento, non erano destinati all'alimentazione e per noi erano animali domestici come un cane, come un gatto quindi dover vedere uno spettacolo del genere è stato devastante anche perché siamo in una zona abitata, abbastanza abitata e fino a un po' di tempo fa queste cose qua non succedevano. I lupi si sono moltiplicati, sono sempre di più e nessuno fa niente per correre a ripari. I residenti della zona adesso hanno paura e chiedono un intervento, gli ultimi avvistamenti proprio in un parco dove sono presenti anche giochi per bambini. Alle 8 di mattina di lunedì, settimana scorsa c'erano due lupi che giravano in mezzo a queste case e la domanda è in questi parchi, in quest'estate quando ci saranno i bambini magari a giocare se un lupo se lo fa il problema, se quella farina da 30 kg è un cane o un bambino, io non lo so. Spero che non succeda niente però qualcuno ha la responsabilità, si deve prendere di questa decisione. Da Policiano a Frassinetto, da Rigutino a Vitiano i cittadini temono per se stessi e per i propri animali. Passano di giorno davanti alle case, io che andavo sempre a camminare sinceramente ho smesso perché comunque c'è un po' di timore ma perché semplicemente è un animale che comunque la sua natura è quella. Ha le famiglie, comunque ha fatto danni, ha animali, recinti, non siamo più liberi di fare una passeggiata né da soli né tantomeno con il cane assolutamente perché comunque vengono poi braccati. Quindi la nostra richiesta, come le mail che abbiamo già inviato alle regioni, sono semplicemente di catturarli e portarli nel loro habitat. Nessuno ha mai chiesto che vengano abbattuti. A breve nascerà anche un comitato. Non è tanto per i danni o roba delge, ma è soltanto per la privazione e la libertà in questa zona.